Musica Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video Ragazzi ho finito di sistemare tutti gli altri E adesso sono pronto per tornare a registrare nella Pexamon Allora, 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 che dovevo fare? Me l'ho dimenticato, ho fatto talmente tante cose ragazzi Prima di, aspetta, ah si 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 Dovevo sistemare qui, allora Faccio queste ragazzi, guardate cosa faccio Eh, le famosissime Iron Bars Ne facciamo uno stack per ora Ce ne facciamo uno stack perché le proviamo con calma E in più le ci sediamo, la metà, la metà le ci sediamo E facciamo queste perché mi piacciono Ok, queste mi piacciono perché guardate che diventano Si possono fare, guardate, tipo, allora vi faccio vedere Posso fare questo così No, però perché è da due, ah si è da due, ok E poi ci metto queste così con l'attacco E poi ci rimetto di nuovo queste così No, però non sono queste Non sono queste quelle dovevo usare Quelle vanilla fanno schifo, usare quelle ci sellate Via vanilla, schiattate Ok, eeeh Quelle ci sellate sono, aspetta che le trovo Sono quelle senza la base Quelle che ci permettono di fare l'unione tra le ci si Vi faccio vedere, guardate Eh, sono Iron bars without frame, queste Guardate Sono quelle che le rendono uniche Perché non hanno il quadrato intorno Che le rende tipo baggose con la chisel Sono quelle chiselose, capito? Insomma, capito Quanto si spaccano velocemente poi quelle della chisel Wow, gg Ok, dovrebbe essere tipo così? Sì, vediamo un po' Che ne pensate? Sì, almeno, almeno spezzano un po' Questi cose centrali così fatti, no? Ok, queste scale me le lascio scoperte Perché mi servono Cavolo che mi servono E intanto metto queste Poi mi serve uno strato sopra E uno strato in alto Uno strato al centro Facciamo tutto uguale, eh? Che ne dite ragazzi? Che ne dici, vedete con le sbarre di ferro lava dietro? Eeeh Voila Ok ragazzi, voi vedrete dietro tutto quello schifo Ma questo fa tutto parte dello scenario Tranquilli, tranquilli, tranquilli Poi me ne dite che ne pensate poi Mentre faccio le fasi finale Già ho letto qualche commento di gente che non gli piace Ma alla maggior parte è piaciuto Quindi ragazzi, finché vi piace A me va benissimo A me piace A voi piace Meglio di così Pachitce vanno Vabbò Natale Ok, questi non sono i brocchi I brocchi Il famosissimo broc Ah è vero, broc è il cavo palestra È tipo terra Giustamente I broc No Questo c'entra No Ah, broc Perché è una roccia Quindi è broc È la roccia friendly Perché è bro È bro, bro rock Capito? È la roccia mica Ah, simpaticissimo Allora, basta Cazzate Andiamo avanti Voi ci scherzate Ma può darsi che è vero Chi ha creato i pokemon Può darsi che è così idiota Vabbè Allora Riempio tutta questa parete ragazzi Perché ci devo appoggiare la lava Quando sarà La lava qui la devo appoggiare Qui Quindi qui deve essere chiuso Qui è chiuso Quindi qui cala la lava Giusto? Sì Ok, secchio Buttiamo lava E facciamo anche la parete davanti Così E voilà Ecco qui la nostra parete di lava Ok Dobbiamo fare la stessa cosa qui Quindi mi serve un altro secchio Secchio, secchio, secchio Al centro E poi mi servono di nuovo questi brick Per non far colare la lava di fronte Ok Quindi qui ci deve essere il blocco Donna ragazzi Quante cose complicate Quanta precisione Puoi fare tutte queste cose Ok, così E mi serve un secchio di lava Qui è il centro O mi servono di nuovo questi blocchi Tadam Eh? Eh? Guardate che cavolo Ah no, però qui era diverso Qui era diverso Qui era diverso Perché c'è il centro da tre Annulla tutto Ridammela la lava Ridammela, ridammela assolutamente Ok, era Qui invece che lì Tipo qui con la lava addosso però Parliamone Ok, qui era il centro vuoto, giusto? No, amore, rimane unita questa lava No, non mi dire No, che bug No, aspetta Fermo, parliamone No, non esiste proprio Butto la sabbia Ah, la sabbia ha fatto un casino Aspetta, andiamo a vedere sotto che succede Ragazzi Di giocare con la lava Guardate che ficata No, era troppo fico Oddio, che cazzo ho fatto qui? Ma cazzo Ho sbagliato tutto Ma perché faccio ste cose? Andiamo a riprenderci la lava Capito, va Togliamo tutto e ricominciamo da capo Eh, come si passa? Qui di tutta sta lava C'ho paura Oh, basta con sta lava C'ho paura Qui schiatto Io qui sbaglio a cliccare E schiatto, guarda Immagino la chat La gente che dice Guarda, mo schiatta No, non schiatto No, non schiatterò per voi Col cavolo che schiatto per voi Ok? Va bene? Va bene? Oh E sopravviverò Ovviverò a tutto questo stress E qui chiudo Ecco, guardate Adesso sono super safe Guarda Mamma mia Se Non Manca solo che cado nella lava Ok, dammi Per favore Chiudi qua Oh Via, dammi Bene Allora Uff Questo muro andrà tutto tolto poi Perché questo è un fake soffitto ovviamente Questo sarà il vero soffitto Che adesso andrò a costruire con molta calma Prima Prima mi faccio tutte le cose intorno Mi spacco Mi tolgo tutti i bricchetti Faccio quelli seri Questi qui La metà li trasformo in questi qui Ok Eh Rifacciamo tutta questa parete Ridammi Ridammi la lava Lava secchio Mio Lava Lava a me Ok Anche questo via Dammi la lava Ok Ci siamo Ci siamo Ci siamo Adesso rifacciamo le cose seriamente Spacchiamo tutto Allora Dove deve passare la lava La lava deve passare Un cazzo Prima che scende Ci vuole una vita Madonna Allora Qui ci sarà il muro che scende Quindi qui spacco direttamente Tanto c'è Ecco esattamente Deve essere così Anche qui spacco direttamente Tirò su Guardate ragazzi La palestra che prende forma Che figata Tiro tutta questa precisione Allora Questo Quindi qui Il centro ci sta il pieno Ok Aspetta Qui ci sta la parte piena Giusto qui Ok Questa è la parte piena Perfetto Quindi qui deve essere pieno E qui c'è il soffitto Soffitto Questo Ok E quindi qui ci va la colata Giusto sì qui Esattamente qui Quindi devo prendere un secchio E buttarlo qui Al centro Perfetto E ci metto questi davanti Nice Ok Quindi qui ci sta l'altro pilastro Giusto Sì Quindi il pilastro sale su Qui ci sta il tetto E E qui ci sta l'altra colata Perfetto Qui E ci va il tetto davanti Ok Mamma mia ragazzi Ok Qui ci sta la colonna Giusto Sì Colonna E tetto E quindi qui Altra colata Hai altra lava Madonna Madonna Piano piano Prende tutto forma Guarda che figata Ok Qui ci deve essere una colonna Perfetto 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 Tutte le misure tornano Qui la cochiudiamo Tanto per Ok Guardate che sta venendo fuori E questo cos'è? Oh questo è mio Che stavo facendo lì? C'è scritto Quello è mio Alexander c'è scritto Ma scherziamo Perfavore Madonna Come fai a farlo? C'è una cosa più bella e precisa di questa Come fai a farla? In quale dimensione? Dai perfavore Ma perfavore Guarda qui Guarda qui Tiè 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 C'è qualcosa da ridi su questo Questo splendore Spettacolo Incredibile Mamma mia Adesso le Iron Bars Eh le sto finendo Cavolo Mi serve altro ferro Ragazzi finirò il ferro Prima di finire questa palestra Lo sapete? È una brutta It's a bad thing It's a bad Very bad thing Bad 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 Eh non ci arrivo Non mi bastano le Le Iron Bars Ragazzi Decisamente non bastano Non bastano E mo? Gisel Ha uno stack Le trasformi in Vedo frame E altri 32 Le trasformi in Queste Ho già finito Le Iron Bars Non ho fatto niente Sto senza ferro Ragazzi No E come facciamo? E che mi invento? Haha Questa è una brutta bestia Ah posso andare allo No Non posso andare da nessuna parte Perché l'armi di ricchezza è il ferro Senza ferro è finita Basta Non gioco più Devo andare a scavare Ragazzi C'è poco da fare Cioè faremo altri episodi di smino No Basta Basta Aiuto Ok Quindi qui deve essere da 2 Qui da 3 Qui da 3 Qui da 3 Giusto 1 2 3 Sì Boh vabbè 1 2 3 No Ok Ah qui 1 2 3 1 2 3 Scattare 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Qui c'è il centro va pieno Quindi 1 2 3 1 2 3 Crea 1 1 1 Oh Ok Oh che fatica Che sta diventando sta palestra Io già sono stato a fare big progetti E nemmeno mi basta il ferro Ragazzi Io non c'è credo Eh vabbè Eh vabbè Eh che devo fare Una cosa Una cosa e l'altra Una cosa e l'altra Comunque così devi dire Fici Cioè raga Questa è la fase finale Cioè Cioè Da fuck Cioè da fuck Veramente Cioè con tante Da fuck No tipo Mi farò dare una mano da qualcuno Ragazzi Andrò a scroccare il ferro da qualcuno Che ne so Una cosa mi inventerò Ok 1 2 3 Mamma mia Dette perfezione Ok Queste qui Queste qui Oh ragazzi poi Oh Se non va bene Me la do in faccia Che vedevo di A me piace Poi So gusti Chi mi lancerà un Geridos E rimarrà bloccato qua dentro Io dico Oh Potevi non prenderti Geridos Allo massimo faccio un'altra palestra Ma a me c'entrano i Pokemon Dai guarda che Certo che c'entrano L'arvesta è morto Metagross Dai c'entra Metagross Dai il soffitto me lo alzo Cioè Alla fine dobbiamo solo duellare Quindi a sta distanza Stiamo bene Dai guarda quanto stiamo lontani Lui si mette Le ciumculoni Ci sta Ci sta Ok Oh qui ci vanno quelle altre C'hanno queste qui Con le ponte Un po' di precisione Oh Che fatica Oh Vabbè ragazzi Io Io spero vi piaccia tutto questo Mi sto Cioè io mi sto impegnando E voi state impegnando A seguire i miei video Io mi sto impegnando A fare la palestra Cavolo È una cosa reciproca Giustamente No Voi che ne dicete È giusto No mi pare giusto Voi Io faccio la palestra E voi Voi vi impegnate a seguire Io che faccio la palestra E io ci sto mettendo Tutto l'impegno che posto ragazzi Cioè Non so se state notando Sto facendo questo tutto il giorno E non faccio altro Cioè C'avrei tantissimi video da fare Tantissime serie Tantissimi giochi Lo sapete quanti Cavoli di giochi ho da registrare Neanche immaginate Volete qualche esempio? Ovviamente questo è un video Che ho già fatto Luke Quindi ovviamente io non faccio Potrei fare un futuro Un giorno Che ne so Poi c'è Cosa come si chiama quell'altro? C'è Train Simulator C'è SimCity C'è Hearthstone C'è CSGO C'è Payday C'è Che cavolo ne so Cosa C'è 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 alcuni giochi che nemmeno ho mai fatto sul canale Capito? C'è Factorio ragazzi C'è Factorio che l'ho proprio abbandonato Che è un giocone E purtroppo non posso Non c'ho proprio il tempo materiale di farlo Perché è un gioco che richiede tempo Ci devi pensare su Prima di fare un episodio Devi pensare a 80.000 cose Come gestire l'energia Come gestire le fabbriche Come gestire tutto Un casino assurdo Ma perché sto facendo questa parete Che nemmeno ci metterò la lava qui? Ma vedete che comincio da qui a mettere la lava No no Ho sbagliato Non vanno così Deve essere giusto Ok Ragazzi questa pizza non è veramente Veramente più impegnativa di quanto pensassi E questi episodi stanno venendo lunghissimi Solo perché sto facendo questa cavolo di palestra Però alla fine il risultato è 10 Ok E io devo fare il passaggio qui Non posso chiudere questo tunnel Perché lì io recupero la lava Che mi serve per la palestra E anche se non ho le aereo in bars Posso comunque far collare la lava Notate? Notate questo? Che c'è abbastanza Abbastanza materiale da costruzione Per far collare tutta la lava Poi le aereo in bars Le posso mettere con calma Poi Scusassime Allora questo qui Posso fare più rapidamente Mettendo parete Parete Centro Vedete così velocizzo Ok parete Parete Centro Parete Parete E finisce i blocchi E vai Ho finito il ferro Ho finito i blocchi Ho finito tutto Sono un barbone Che bello essere i barboni in lapix Non è? Ero il più ricco di tutti Adesso sono il più barbone Nice Ok 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 Ci faremo una ragione ragazzi Io sono un barbone 1 2 Finito Ho finito tutto Ce l'ho un po' di ferro Cazzo Ce l'ho un po' su casa ragazzi Ma non basta decisamente Per quello che devo fare Però Però ho i secchi E posso riempirli Per fare ciò che mi serve Allora Allora Questo via Questo via I blocchi via Tutti quanti Via Sparite dalla mia vista Spariggiate Ok E Adesso tocca fare il soffitto Andiamo a raccogliere la lava Con i secchi lì Blah 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 Ce n'ho 10 Cavolo 10 secchi di lava Basteranno Tutta la palestra Non ho fatto a metà Con un suo coso Ok Lava Vieni Più che altro Poi si secchi di lava Posso anche venderli Scambiarli per oro A quanto sta l'oro ragazzi? Non mi ricordo mica Potrei Nel prossimo episodio Andremo a prendere l'oro Ottima idea Andremo a prendere l'oro Con i secchi di lava Vendiamo i secchi di lava E compriamo oro Not bad come idea Assolutamente not bad E consideriamo anche Che ho lasciato parecchi secchi a Ulisse Quindi potrei farmi ridare I soldi che mi deve Non sarebbe una cattivissima idea Poi sinceramente Dettagli Ok Mi servono i brick Questi 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 E basta Il soffitto lo facciamo tutto di stone Dove metterà qua c'è altra stone No 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 Allora Stone bricks Questi Ok Il soffitto Non ho la minima idea di come farlo Ragazzi Se lo lascio tutto di stone Piatta Liscia così No Voglio qualche decorazione Ci devo mettere qualcosa Devo fare qualche Qualche affresco Qualche cosa di Minecraftiano Adesso vediamo un po' Qualche cosa che la gente fa Guarda su Cazzo che c'è su Però no Potrei farlo più alto No troppo alto così No 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 Ce lo metto sotto Qui sotto lo metto Ok via 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 Richiudo Richiudo E mi rimangio quello che ho scavato Non faccio più basso Il tetto Così diventa troppo alto È assurdo Ok Eh no Troppo assurdo no Perché non sarebbe Devo pensare Devo Devo pensare Devo pensare Al tetto ci mettiamo poi E allora Prendiamo le solite misure Qui si spacca 1 2 3 E qui ci vanno i bricks 1 3 Ok Qui ci va il tetto E quindi qui ci va la lava Uff Che fatica Ma almeno le misure sono giuste Può pare di sì Ok quindi qui ci sta la colonna Giusto? Sì Perfetto La colonna va su Non troppo su Non troppo su Ci va l'altro tetto Qui ci va altra lava Lava giù Altro pezzo di tetto Qui c'è la colonna giusto? No qui c'è la colonna Beh qui c'è la colonna Va su Donna ragazzi È perfetto Tutto perfetto Tutto perfetto Assolutamente Impossibilmente Perfetto Questa sale Questa va qui Guarda che precisione Guarda già sapevo che qui c'era la colonna Ti rendi conto? Ormai è proprio l'abitudine Dello scavare Assurdo Ok Quindi qui c'è la colonna Giusto? No Ok Ah qui c'è quello da 3 Qui c'è la colonna da 3 Ok Con la centrale Dai Ragazzi che sto creando Ok È faticoso Ci crede mi sta venendo un mal di schiena Incredibile Ok Oh 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 Che cazzo fai? Oh che cazzo Pazzo Metacross impazzito E qui c'è l'angolo giusto? Sì L'angolo sale su E qui devo riempire la parete con della stunno Qualcosa del genere Tipo così Serve Eh un'altra stunno Madonna quanta stunno Dentro a quello zainetto Sembra un query Ok Eh No quello non è buono Ok così Chiudi Nice Ultimi pezzetti Ultimi pezzetti Questi devono diventare Questi Dai sugli ultimi blocchi Finita ragazzi Finito il porto Finito il porto Ci siamo È incredibile Siamo alla fase finale Ah Non ci credo mai Nell'episodio di oggi Sono riuscito ad arrivare alla fase finale Non ci credo Ok anche qui ci deve andare Della lava però Anche se non è precisa come di là Deve andarci lo stesso Anche se sono solo due blocchi Perché qui c'è l'entrata Ok Perfetto GG Non ci credo Mi viene da piangere Sto piangendo Sono commosso Ok Qui la scala la lascio ragazzi Perché mi serve per salire sopra Ok 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 La lana brucia Oggi se la lana brucia Spacco tutto Se la lana brucia Spacco tutto Giuro Spacco spacco tutto Qualunque cosa esista Su questo gioco La distruggo Ok Chiudi quello schifo lì Subito immediatamente Come è potuto Ah c'è il foro Qui sotto Mannaggia Mia chi non me lo dice E mo che mi avvento Devo andare sotto Subito a sistemare Corri 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 Forest Corri 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 Cavolo 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 Questa è una bruttissima situazione E mo Devo attaccare un blocco lì Là così E uno accanto Subito a destra Eeeh Anche sopra Non voglio bruciare Raga Perdo tutto Dai Piazza Lo stronzo Sì Ok Ok Precisione Mamma mia Non ci credo Mission success Questa era una missione impossibile Non lo so come l'ho fatta Proprio al limite del piazzamento Oh Soddisfazione Oh la lana non ha bruciato E vai Che bello Dici Si brucia pure Cops Si 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 Oh qui manca Qui manca Qui manca L'ultimo secchio di lava Gli ultimi due Precisamente proprio Precisi precisi in dati Mamma mia Non ci credo Oh Che fatica Sto sudando Ok Ok Sono sudato Basta Relax Ok basta Pixmo Non ce la faccio più ragazzi Io torno domani sulla Pixmo Non ce la faccio proprio più Ah Che ne pensate di questa palestra ragazzi Io Mi sto impegnando al massimo Sto facendo tutto il possibile Per renderla più figosa Figosata Ovviamente ripeto ragazzi Ricordate quello che vi ho detto Avere la palestra è una responsabilità Deve essere La migliore Perché è la prima E quindi è anche la più bella Che ne pensate di questa Palestra ambientata Nella lava Con la pokeball al centro Guardate sulla mappa Che bella Ok Vediamo se zoom Come la posso zoomare Che figata No dai Dai GG Ok raga Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo video In cui andrò a inventarmi Qualche geroglifico Per il tetto Si Mi inventerò qualche Qualche struttura geroglificiosa Non lo so Devo inventarmi qualcosa Da piazzare qua sopra Deve essere tipo Un disegno Non lo so Magari niente Solo tetto piatto Un tema Non lo so Qualcosa mi invento Ragazzi Ciao a tutti E al prossimo video Ciao ragazzi